Allora, un viaggio, un brano musicale, un videogame, un film, hanno lo stesso valore intellettuale di un libro. Va bene, benissimo, benissimo. Cioè lui diceva la sostanza, la intelligenza, c'è, no? No, perché anche pensano che il libro è un videogame, sicuramente è un videogame. Ma perché nei videogame c'è la sceneggiatura. Certo, va bene. Grazie a tutti voi, grazie a tutti quanti anni. Grazie a tutti, a tutti quanti anni. Anico Ricinillo per le musiche e le introduzioni agli ospiti da Giorgio Casola. Alla prossima.